Io sono andata da settimana, io compro questi caffè e i pillanti, e poi mamma ha comprato i stivali, stava comprati i stivali, papà non li ha comprati i stivali. Perché non li ha comprati i stivali? Dove? Dove? Dove siete andate a comprare le scarpe? Da settimana. Ma perché stava non li ha comprati i stivali? Ma io sono andata qua, papà non li ha comprati i stivali, mamma li ha comprati i stivali, io li ho comprati i stivali. Ma tada non li ha comprati i stivali, papà non li ha comprati i stivali. Perché? Perché è macchio. Ok, ok, ho capito. E poi voi ce la vedi con i pillantini, ma io sono venuta qua, e ora mi sono le cappe guidacchi. E no, perché tu sei andata da cd moda, a comprarti le scarpe, e adesso io qui non te le vendo le scarpe. Da chi sei andata a comprare le scarpe tu? Da cd moda. Perché non sei andata a factory 278, invece di andare da cd moda? Non va bene, ci sta rimasta male. Io sono andata da cd moda a comprare i stivali, però adesso sono arrivata qua e ora mi metto le cappe con i stivali. Ah, vuoi comprare qui? No, non te le vendo. Ma quante borde c'erano? Ah, c'erano pure le borde, ti hai comprato pure la borsa, no? No, non c'erano le borde, perché io sono andata da cd moda e non c'erano le borde. Non le ho trovato, c'erano quelle grandi delle cappe, però sono piccole. E ora, ora sono arrivata qua, mi metto le cappe di mie con i billantini, poi quando sono arrivata qua adesso, mi metto i tacchi con il tacco. No, perché io non te le vendo le scarpe col tacco, le vendo a un'altra bambina che viene qui a comprare le scarpe. Tu mi dici, erano belle le scarpe, non ce l'ha più belle factory 278, le scarpe? Io sono andata da cd moda. Quante ce ne aveva scarpe cd moda? Tante. Io sono andata da cd moda, a comprare i stivali dei billantini, ma quando c'è venuta qua, ma io mi vendo le cappe di tracchi. No, perché noi non siamo più amiche, tu sei andata a comprare un altro negozio, tu devi venire al negozio mio. Che è più bello, cd moda o factory? Che è più bello, cd moda o factory? Io sono andata da cd moda con mamma, io mi sono comprare i stivali dei billantini, quando c'è venuta qua con nonna, io ora mi compro i tacchi. C'è per dire, compro tutti i miei modi. Ho capito, ma qual è più bello di negozio, cd moda oppure factory? E' bello cd moda. Ah no factory 278, non è bello factory 278, guarda mamma, factory 278 non è bello? Brava, basta, non siamo più amiche, chiudo il video qui perché questa bambina è veramente brutta.